Ancora un incidente mortale che ha come vittima un motociclista in Sardegna. È accaduto nel pomeriggio sulla strada provinciale 83 tra Masù e Bugerru, a perdere la vita a Franco Corda, 74 anni, dentista originario di Iglesias. L'uomo era alla guida della sua moto, ma per causa di incorsi di accertamento ha perso il controllo del mezzo, impattando pesantemente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno alertato del rissoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale Bruzzo di Cagliari. L'uomo purtroppo però è deceduto alcune ore dopo il ricovero a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni.